Sindaco Palomba, parte il progetto di riqualificazione di Villa Guerra, verrà realizzato un asilo nido. Sì, abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo con una delibera di giunta per Villa Guerra, quindi il recupero di questo edificio che è praticamente abbandonato nella zona di Sant'Antonio, che può essere a disposizione per 60 ragazzini. Queste sono tutte opere che praticamente l'amministrazione comunale con i vari fondi ha messo a disposizione. Posso anche dire sul PNRR, l'avete già detto, tutto quello che può essere il recupero della Ritorane, abbiamo avuto i fondi, la possibilità del Palazzetto dello Sport con una pista di atletica del Manto Erboso per dei campi di calcio. Sono cifre queste, ma sono cifre che nei prossimi mesi vedremo anche delle prime pietre che verranno messe per la costruzione di queste opere. Adesso quando partiranno i lavori per Villa Guerra? È un progetto definitivo, quindi penso a breve partono i lavori per questa struttura, quindi un altro recupero. E poi io spero con l'avanzo di amministrazione, ciò noi abbiamo provato fino all'ultimo di avere dei finanziamenti per quanto riguarda la scuola d'Orsi, e dopo di che tutto quello che più o meno per quanto riguarda le opere c'eravamo detti, ritengo che qualcosa è stato fatto almeno per i fondi e per far partire quanto prima e collegare e quindi le prime pietre. Scuola Orsi che da anni attende una sede dignitosa? Sì, noi avevamo provato con alcuni finanziamenti e adesso io ritengo che con la variazione di bilancio che noi normalmente facciamo a maggio, dove mettiamo tutta una serie di possibilità di lavori e tante altre cose, e penso che la Dorsi rientra in quella che è la volontà dell'amministrazione comunale, che già c'era questa volontà, aspettavamo alcuni fondi, cose che non sono arrivate, e adesso con i fondi comunali possiamo chiudere anche quest'altra partita.